Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, oggi i riflettori sono accesi su un tema che investe il futuro del nostro sviluppo, il tema dell'innovazione, il tema delle start-up, il tema che è al centro nelle sue varie declinazioni di visionaria, il festival dell'innovazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara e della sua agenzia di sviluppo che è giunto alla sua terza edizione che si terrà la prossima settimana a partire dal 22 di novembre presso il padiglione Becci della Marina di Pescara. Ne parliamo con gli ospiti in studio autorevoli che ci inquadreranno un po' il contesto in cui questa idea che è sempre più una realtà nel calendario degli appuntamenti anche nazionali verrà declinata in questa edizione. Salutiamo e ringraziamo l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, buonasera direttore, è tornato negli studi di Rete8, assieme a lui il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, buonasera Presidente, anche a lei un bel tornato, così come a Giovanni Marco Antonio che è il Vice Direttore dell'Agenzia di Sviluppo della stessa Camera di Commercio. Buonasera, allora io inizierei proprio con questo termine, visionaria, inizierei proprio dal visionario che è stato Gennaro Strever nello scegliere anche questo nome che poi ha avuto anche un successo e è diventato già un brand dopo tre edizioni, che significa Presidente visionaria? Visionaria è nata all'interno della nostra Camera di Commercio il nome, proprio nel 2020 in pieno lockdown, che al posto di starci lì a piangere addosso abbiamo pensato di dare uno sguardo al futuro perché l'abbiamo ritenuto interessante. Noi con Visionaria immaginiamo di dare il nostro contributo del land parlando di futuro. Noi parleremo con i giovani, parleremo di start up, parleremo di imprenditoria femminile e ogni anno parliamo anche di ambiente di energia. Noi attualmente stiamo spendendo cifre importanti col PNRR e tra le cose che dovremmo realizzare ci sta anche la transizione energetica che ha un valore inestimabile a mio giudizio per il futuro del nostro Paese. Detto questo, intanto durante questo evento del 2022 ci sarà una tavola rotonda partecipata da illustri docenti di fama nazionale e oltre, ci sarà il Presidente del GSE, Senatore Arrigoni, noto professionista, ingegnere, prima già che diventasse senatore, diventasse Presidente del GSE e di fama importante come tecnico di ingegneria su quanto riguarda il mondo dell'elettricità. e ci saranno altri docenti, come dicevo. Lì la prima cosa sarei tanto curioso a capire e a dare veramente il nome, a dare veramente oltre al nome di transizione energetica a riuscire a condividere cosa intendiamo per transizione energetica. Io provo a dargli la mia interpretazione. Transizione energetica, a mio avviso, dovrebbe essere quel passaggio dall'energia prodotta endotermica, cioè con combustibili, e a passare verso un'energia prodotta totalmente da fondi rinnovabili. Questa sarebbe la vera transizione energetica. Per fare tutto questo ne parleremo nella tavola rotonda di quale potrebbero essere i mezzi per arrivarci, però fino ad oggi sinceramente vedo solo piccole integrazioni al sistema energetico di fondi rinnovabili, ma non vedo ancora un forte interesse vero a quello che è, vado apertamente, all'idroelettrico, perché è l'unica fonte di energia rinnovabile che può sostituire integralmente il termo elettrico. Ne parleremo con docenti di fama, dicevo, nazionale e internazionale e vedremo. E nel contesto vediamo anche di riuscire a capire quando abbiamo fatto e stiamo facendo con i fondi PNR per fare questo passaggio. Questa cosiddetta transizione green che poi nella sostanza deve trovare anche degli strumenti che siano in qualche modo alla portata delle richieste, delle necessità dell'approvvigionamento elettrico nazionale. Ma certamente. Io voglio ricordare che noi abbiamo bisogno di energia 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per cui non possiamo mai immaginare che risolviamo solo col solare o con l'eolico o con la gelotermia. Abbiamo bisogno sicuramente di altre fondi. Se parliamo di rinnovabile, la fonte indispensabile è incrementare l'idroelettrico e non ce ne sono altre. Poi incrementando l'idroelettrica noi dobbiamo incrementare una miria di invasi che ci consente, visto anche i cambiamenti climatici che ci sono, che vediamo spesso temporali, a volte che regolano anche danni importanti. Se noi progettiamo a monte invasi importanti, potremmo anche aiutare a salvare queste inondazioni che ogni tanto succede ed avere eventualmente anche una scorta d'acqua per eventuale siccità. Per cui, per fare la transizione energetica, io come ho già detto in qualche altra occasione, bisogna sicuramente fare un progetto nazionale, perché non lo può fare altro che lo Stato, perché non ci possiamo limitare alle regioni o province comuni perché sarebbero impotenti, e dare un progetto nazionale per raggiungere quell'equilibrio tale di pian piano diminuire l'energia realizzata con gli ambienti termici e non dico di annullare del tutto perché è molto molto difficile, ma quando meno ridurla ai minimi termini nel giro di 20-30 anni. Non si fa dalla sera al mattino. Presidente, lei con la sua riconosciuta franchezza è entrata anche nel merito di uno dei temi che saranno affrontati, come diceva lei, e su cui è importante che gli addetti al lavoro diano risposte nel corso di questo festival dell'innovazione. Ma questo della transizione energetica, così come quello del digitale, così come l'intelligenza artificiale che ci ha passione e ci spaventa allo stesso tempo, sono tutte le tematiche su cui il tessuto delle piccole e medie imprese, in particolare quelle innovative, ma anche delle imprese tradizionali che compongono la vostra base associativa, si devono cimentare. Ecco, su questo io voglio approfondire col direttore Marc Antone un po' il senso generale di questo Visionaria 2023 per capire anche per esempio cosa è piaciuto della vostra idea della vostra impostazione a Smau che vi ha dato una sorta di imprimatur nella presentazione di questa settimana pescarese? Visto che ci sarà per la prima volta l'edizione abruzzese di Smau, possiamo dire che a Smau è piaciuto tutto l'impianto di Visionaria delle precedenti due edizioni. Ma il tema di Smau, la declinazione del tema di Smau è quella specifica di creare le condizioni perché gli ecosistemi regionali possano incontrarsi. Da un momento di networking, perché è importante anche quello, quindi passato il periodo della pandemia avere la possibilità di un contatto diretto tra chi richiede e può e richiede, deve necessariamente sempre richiedere innovazioni come può essere il lato delle corporate e chi le può produrre come le start up, ma anche chi facilita la produzione di innovazione o sostiene la produzione di innovazione. Ecco, brevemente questi sono i tre attori che si troveranno nella giornata del 24 con una delle verticali di Visionaria per parlare di innovazione. Come con tre live show, cioè tre momenti aperti a tutti quelli, speriamo numerosi e correte già a descrivervi, tutti quelli che saranno interessati da queste tematiche, da quelle in generale dell'open innovation, come quella appunto di Visionaria, alla manifattura 4-5.0 piuttosto che ai temi della transizione, con due tavoli riservati ad inviti dove imprese, facilitatori e regione, quindi esponenti del mondo pubblico, anche quello della ricerca, si incontreranno per riportare le proprie esperienze per un momento di dibattito e di confronto guidato che poi darà la possibilità di fornire alle plenarie un primo ritorno di quelle che sono le conclusioni. Conclusioni che serviranno poi per procedere già dal 2024 con azioni mirate, ma soprattutto per preparare un altro appuntamento come potrebbe essere proprio quello di Small Bruce 2024, dove raccogliere e raccontare le esperienze che nel frattempo, nell'anno ci sono state. Ecco, perché Visionaria è anche più di un momento di racconto, perché non solo di storie, quindi non solo di storytelling, ma anche di dare evidenza di quello che già in questa regione c'è, risultati raggiunti da parte di tutti gli attori che ho nominato prima, gli attori pubblici, le start-up, i facilitatori, il Presidente prima Strever ha citato le risorse PNRR, è un'occasione unica nella quale forse non eravamo ancora abituati, dove c'è necessità di avere idee e per quanto riguarda noi idee che si possono trasformare in idee di impresa, che possono avere poi un modello di business validato sul mercato, perché c'è la necessità appunto di mettere a terra tutta questa ingente mole di risorse per farci fare quel salto che ci viene richiesto, non solo e non tanto a livello nazionale, ma a livello internazionale perché, altro elemento che viene coniugato all'interno di Visionaria con la presenza della Special Edition dell'Export Flying Desk, cioè quello dell'agenzia ICE, perché il binomio, il connubio di innovazione e internazionalizzazione è indissolubile, non c'è possibilità di internazionalizzarsi senza innovazione e per fare innovazione c'è anche la necessità di aprirsi ad idee che provengano anche da altri mercati e che comunque diano la possibilità di fare una proposta di valore per mercati regionali, nazionali ed internazionali. Assessore Damario, iniziamo proprio dal PNRR, visto che è stato evocato nei primi due interventi. L'Abruzzo, anche rispetto ai specifici temi che verranno affrontati in questi tre giorni di Pescara, a che punto è? Quali sono state le scelte individuate e soprattutto c'è questo filo della sostenibilità su tutti gli interventi che riguardano la nostra regione e che metteranno sul nostro territorio a disposizione risorse probabilmente mai viste da parte dell'Europa? Innanzitutto, rispetto al PNRR, devo dire che le regioni hanno giocato un ruolo marginale. Noi ci siamo anche lamentati come regioni con il governo centrale perché per quanto riguarda il PNRR spesso le regioni sono state solo attuatori di alcune linee e quindi devo dire che siamo stati molto più concentrati sulla nuova programmazione 21-27 che comunque sono una dotazione economica importante, è evidente che spesso i bandi PNRR erano rivolti direttamente ai comuni e quindi la regione ha avuto un ruolo più di sostegno, di coordinamento per i comuni che rispondevano ai vari bandi. Mentre sulle linee strategiche importanti diciamo che il governo ha fatto da sé, come regioni... Certo, in Abruzzo però è stata fatta per esempio questa scelta proprio di transizione energetica sull'idrogeno su cui si è puntato molto con una serie di progetti che sono stati inizialmente spinti proprio dalla vostra giunta. Assolutamente sì, è evidente che prima il Presidente Stever parlava di energia pulita, è evidente che il futuro va verso l'idrogeno neanche sull'elettrico, io su tutta la partita legata alla transizione sull'elettrico insomma è una cosa a forte rischio voglio dire, insomma rischiamo di metterci in mano ai cinesi, a chi ha le materie prime, a chi ha le materie innovabili, quindi su questa partita qua è evidente che l'idrogeno, l'idrogeno green ovviamente parliamo, prodotto in loco è sicuramente una risorsa importante, è evidente che anche qui la tecnologia deve ancora fare passi in avanti per essere fruita normalmente. Dicevo, per quanto riguarda il PNRR forse le regioni hanno avuto un ruolo poco marginale, ma non perché volevamo entrare nel merito, perché forse le regioni potevano meglio indicare alcune linee di intervento del PNRR, oltre che sulla transizione, ma faccio un esempio banale, io faccio anche l'assessore alla cultura, oltre che lo sviluppo economico al turismo, quando parlai con la loro Ministro Franceschini per quanto riguardava una linea PNRR che riguardava i borghi, arrivai a uno scontro importante, perché cercavo di far capire al Ministro che finanziare un solo borgo da 20 milioni di euro a un comune che ha un tecnico a scavalco due giorni alla settimana e pensare di fare un appalto di 20 milioni di euro, entro i tempi che erano stati fissati, era una follia, solo chi forse non ha fatto l'amministratore locale sa che cosa è niente. Quindi volevamo dare un contributo in questo senso, in alcune cose siamo riusciti, in altre no. Ritengo che in Abruzzo ci sia un know-how rispetto ai comparti industriali importanti, non dobbiamo mai dimenticare che l'Abruzzo è la settima regione più industrializzata d'Italia, la prima del Mezzogiorno, un comparto produttivo dove gravitano importanti centri di ricerca, le università, quindi forse potevamo dire la nostra. Il Governo ha fatto altre scelte allora e quindi rispetto al PNRR diciamo che il ruolo delle regioni è abbastanza marginale. Invece sugli incentivi alle imprese anche per l'innovazione, per l'altro tema fondamentale di questa edizione di Visionaria, la Regione ha indirizzato che tipo di progetti e che tipo di interventi? Allora, innanzitutto per quanto riguarda di Visionaria devo dire che faccio i complimenti alla Camera di Commercio che per il terzo anno ha lanciato questa iniziativa in accordo con Regione Abruzzo, devo dire che con le Camere di Commercio noi abbiamo un protocollo di intesa che riguarda il turismo, che riguarda il settore dello sviluppo economico e questo ci consente di mettere insieme le risorse sicuramente di fare delle scelte più oculate. Oggi abbiamo parlato tanto di innovazione tecnologica ma è evidente che l'innovazione tecnologica è legata ad un altro tipo di innovazione. La sfida del futuro sarà l'innovazione delle competenze. Oggi più che mai le aziende scelgono di insediarsi in un territorio non per il contributo, vecchi schemi per cui cosa mi dai se mi vengo a insediare sul tuo territorio? Oggi la partita vera è cosa trovo nel tuo territorio per quanto riguarda le competenze se mi vengo ad insediare lì. È evidente che la sfida sta lì perché l'innovazione tecnologica c'è là dove c'è innovazione delle competenze, del know-how. Devo dire che noi in Abruzzo sotto questo punto di vista… Quindi alta formazione, università… Sicuramente, ma anche università alta formazione, ma anche basilari, TS… Sicuramente alta formazione… Noi tra virgolette stiamo lavorando anche a un evento internazionale a fine gennaio, nel quale si ruinano in Abruzzo tutte le maggiori imprese legate all'automotive, ma proprio per mostrare che è un territorio ricco di competenze, ricche di aziende all'avanguardia, ricche di università che giocano la loro parte in questa che sarà la sfida del futuro. Assolutamente, perché quella che noi chiamiamo Sevel, Stellantis, la più grande fabbrica d'Europa di veicoli leggeri, si salva se… Ma guardi, io ritengo che non solo si salva se continua ad essere centrale, ad avere quel know-how che oggi gli permette di essere più competitivo rispetto alla Polonia, per fare un esempio, dove pur il costo della mano d'opera è inferiore, però se le nostre maestranze riescono a tirar fuori un prodotto, un furgone in questo caso, che non deve tornare indietro perché ha difetti, sicuramente è vincente. È evidente che la sfida del futuro, proprio in un momento di transizione ecologica rivolto all'elettrico, sarà anche il disassemblaggio. La sfida del futuro non sarà costruire furgoni, ma il recupero delle materie prime che ci permetteranno poi di fare nuove batterie, quindi noi riteniamo che l'Abruzzo si possa candidare ad essere uno dei due hub più importanti d'Italia per quanto riguarda il disassemblaggio dei furgoni che si producono in Abruzzo. Lo stiamo facendo, Regione Piemonte sta un po' avanti, noi stiamo a ruota, diciamo che Stellantis ci ha fatto capire che è la strada giusta e che dobbiamo percorrerla insieme. Bene, noi ci fermiamo per la prima delle nostre pause e poi torneremo in studio perché insomma siamo già entrati un po' nel cuore dei temi che verranno affrontati e invitiamo tutti, anche i nostri telespettatori, a sentire in maniera approfondita i pareri degli addetti ai lavori in questa tre giorni di Visionaria a Pescara, linea alla regia. Siamo tornati in studio per presentare la terza edizione di Visionaria dal 22 al 24 novembre, vale a dire la prossima settimana, dal mercoledì al venerdì presso il padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara, una vera e propria kermesse dell'innovazione, delle start-up. Appunto stavamo inquadrando i temi principali, però io voglio sapere dal Presidente della Camera di Commercio, che più di ciascuno di noi conosce un po' il tessuto imprenditoriale delle province di Chieti e di Pescara, se le aziende sono pronte a sfidare i mercati internazionali attraverso l'innovazione, cioè che tipo di voto c'ha adesso l'Abruzzo? Noi dobbiamo fare una classifica della competitività tra le, soprattutto le piccole aziende che sono quelle che magari soffrono di più, perché abbiamo parlato finora di Stellantis, e il resto della competizione, anche internazionale. Ci sono le condizioni qui in Abruzzo perché queste aziende possano avere un futuro sull'innovazione? Sicuramente sì, sicuramente sì, credo di stare nella media nazionale, non abbiamo niente da invidiare. Provo a fare un esempio, noi a Visionaria facciamo anche il premio Visionaria per le start-up, che è il premio dei premi perché praticamente raccogliamo le tre start-up che hanno vinto i premi di altre competizioni fatte dalle varie associazioni di categoria e li portiamo praticamente tutti insieme per una competizione globale per trarre fuori, diciamo, le migliori idee. E non nascondo che ho seguito in modo particolare innovazione di Convindustria e ho visto tanti, ma tanti progetti intelligenti per cui, e anche nelle annate precedenti abbiamo visto tanti giovani con delle idee effettivamente meritevoli di interesse anche da parte di chi ha interesse a investire su queste start-up. Per cui sono convinto che il nostro territorio è capace, è pronto. Credo che tutto sommato, credo che in Abruzzo abbiamo dimostrato negli ultimi 50 anni che il mondo imprenditoriale è cresciuto, probabilmente si è fermato un pochino la progettualità pubblica perché dovremmo cominciare a progettare, si è smesso di progettare per il pubblico forse 30 anni fa, non ieri, per cui bisogna cominciare a fare grandi progetti del pubblico per migliorare le nostre infrastrutture perché noi siamo al centro d'Italia come regione geograficamente, però a livello di trasporti, mobilità, siamo isolati. Non dimentichiamo che da Catania ci sono 20 voli al giorno che vanno verso Milano e Torino, ce ne saranno altre 10 che vanno su Roma, ma potresti dire da Catania e potresti dire anche dalla Calabria. Noi qui da Pescara siamo isolati. Il treno, Roma-Milano col frecciarossa, imbiega il treno più veloce 2 ore e 59, Pescara-Milano il treno più veloce imbiega 5 ore. Cioè, signori, qualcosa non va come regione, ma qui non è un problema di ieri, è un problema di una carenza di progettualità almeno da 30 anni e oltre. Ecco, ma per esempio, per l'innovazione, oltre alle infrastrutture, le grandi infrastrutture di quello che parlava, forse, ecco, questa può essere un'indicazione anche per la regione, per i decisori pubblici, non è importante creare anche altre infrastrutture, si faceva riferimento alla formazione, all'alta formazione, ma anche per esempio la connettività, che è un fattore decisivo, anche per esempio per dare un futuro ai centri più marginali della nostra regione, dare un futuro anche che sia al passo col presente, al passo con i tempi, che li renda competitivi. In merito a questo si è fatto già tanto, si sta facendo, però la domanda iniziale sua era quella se le aziende abruzzese sono pronte o meno. Io dico che sono pronte, e lo ribadisco, perché l'Abruzzo poi, come regione, è stato già, dallo scorso secolo, esportatore di grandi cervelli, e ce ne sono ancora tanti. Bene, direttore, cosa fate voi al di là di visionari a 365 giorni all'anno per sostenere le vostre imprese nelle sfide dell'innovazione, nelle sfide anche della trasformazione digitale? Tanto, e in maniera abbastanza articolata, sicuramente in alcuni ambiti, anche seguendo quelle che sono le politiche, le strade, gli strumenti, e le occasioni messe a disposizione dal Sistema Nazionale delle Camere di Commercio. Uno per tutti all'interno di questo tema della transizione digitale, il punto impresa digitale, nato insieme ai Digital Innovation Hub e Competence Center, inizialmente Industria 4.0, poi Impresa, adesso siamo in Impresa 5.0, per creare un luogo anche fisico nel quale si potesse fare aggregazione. Sui PID devi fare un'aggregazione di primo livello e dare un'azione di sensibilizzazione su tutto ciò che significava, deve significare l'importanza legata alla trasformazione digitale. Ecco, direttore, una cosa sicuramente importante è che tra il concetto di connettività, ma anche di infrastrutture, avesse anche declinato su ciò che è di interesse dell'innovazione, perché le infrastrutture devono anche essere quelle nelle quali c'è anche aggregazione. Noi siamo stati carenti dopo politiche decennali di un certo tipo, di incubatori e di acceleratori, ci mancavano proprio delle strutture e la connettività non è solo quella delle reti, ma anche quella di entrare in contatto con altre realtà. Non ha da temere confronto alla realtà abruzzese, che comunque è una realtà proporzionata alle dimensioni della nostra regione, quindi basti pensare che tra le start-up innovative scritte nel registro delle start-up innovative siamo attorno ai 310-330, quindi ci posizioniamo su una media-bassa, ma ci sono alcune realtà, alcune eccellenze di primissimo piano, su campi anche veramente di frontiera. Ecco, su questi temi che le ho detto c'è l'impegno veramente quotidiano della Camera di Commercio di Chieti Pescara, anche attraverso la propria azienda speciale, l'agenzia di sviluppo. C'è la tre anni a questa parte, in maniera specifica, proprio sulle start-up. Le start-up che sono quelle che adesso ci troviamo, che sono ancora più pionieristiche, perché hanno potuto utilizzare un supporto di un'infrastruttura non così di natura sistemica, che è l'altro passo che dobbiamo assolutamente fare per mettere a disposizione di queste realtà un'offerta veramente integrata che possa permettere a loro di accedere a qualunque punto della nostra regione su uno standard qualitativo di un certo livello. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto rendendoci conto di quei due passaggi necessari sul tema, e cioè bisogna favorire la generazione di idee, ma la generazione di idee per sé, soprattutto dal punto di vista della Camera di Commercio, non è, anzi è un inizio, non necessariamente è l'inizio ottimale, perché l'idea deve diventare un'idea di impresa, ma anche l'idea di impresa deve essere portata sul mercato, deve essere validata dal mercato, il tutto in un modello organizzativo, quello che si dice in un business model. Ecco, con un'attenzione particolare alle azioni di business design, quindi di disegno del modello di impresa, l'azione della Camera di Commercio è andata verso quella, una direzione che lato start-up voleva evitare di avere sempre più start-up che erano idee di impresa con una forma giuridica, e cioè che necessitavano di qualche elemento. Quindi azione la più completa possibile, che poi tra l'altro ritrova tanti elementi all'interno di Visionaria. Il Presidente parlava del Premio Innovazioni, quindi mette insieme non solo le tre iniziative, cioè challenge regionali che poi hanno a loro volta un contesto nazionale di cambiamenti di CNA, di innovazioni di Confindustria, di Oscar Green, di Coldiretti, ma anche la parte legata alle start-up, cioè quelle challenge riservate al mondo universitario. Ecco, lì sicuramente c'è molto da intervenire. Veramente tanto per fare sì che lì dove ci sono i momenti, i più ampi di generazioni di idee, si inizi anche a pensare alle idee di imprese. È un po' come quando si va a fare orientamento al lavoro, alternanza scuola-lavoro, a per inciso la seconda giornata, la mattinata, è dedicata proprio alle storie di alternanza scuola-lavoro e le scuole visionari. Bisogna iniziare a far capire che il futuro lavorativo non è necessariamente solo un futuro dipendente, ma è anche un futuro imprenditoriale. Per cui è anche in quest'ambito, anzi soprattutto in quest'ambito, le competenze devono essere di estremo livello, elevatissime. L'ultimo spunto, probabilmente ci possiamo anche ritornare troppo, è che il contributo della regione Abruzzo è fondamentale per realizzare la verticale, e la sezione dedicata all'artigianato tradizionale divisionale, e cioè divisione arte. Bene, di questo ne parleremo più avanti. L'assessore Damario, insomma, abbiamo visto, l'Abruzzo ha le idee, ha gli uomini, ha le imprese per poter cimentarsi nel agone mondiale dell'innovazione. E allora di cosa c'è bisogno? C'è bisogno innanzitutto di fiducia. La fiducia significa anche credito, significa anche sostegno, in parte, da parte, per quanto possibile, del pubblico. Voi avete, peraltro, proprio in questi ultimi anni, fatto anche una riforma, che è quella della fusione tra Fira e Abruzzo sviluppo, per mettere insieme, in maniera forse un po' più sinergica, tutta una serie di strumenti. Ecco, perché un'idea diventi un'impresa in Abruzzo? C'è un ruolo che la regione può svolgere ancora più intensivamente, oltre a quello che già sta facendo? Ma sicuramente sì. Mettere insieme Fira e Abruzzo sviluppo è stata, secondo me, una necessità. Voglio dire, mettere a sistema due entità che facevano forse lo stesso lavoro, magari con raddoppi di figure, di competenze. Quindi mettere a sistema questa cosa è stata sicuramente un'idea importante. è ovvio che passare da due entità a uno crea sempre un periodo di rodaggio che però stiamo affrontando e quindi ritengo che oggi Fira possa dare sicuramente una risposta a quelle tante idee che hanno necessità di essere sostenute per diventare poi un'impresa. Devo dire che noi ci siamo dedicati non solo a questo, ci siamo dedicati anche alle imprese esistenti, voglio dire, con un po' anche di banto e di dire che siamo stati tra le primissime a sfruttare i fondi della programmazione del 2021-2027. Noi siamo usciti con un bando, due bandi separati, uno da 40 milioni, uno da 27 milioni, tra virgolette, in tempi velocissimi. Noi penso che nella prossima settimana saremo già in grado di dare la prima guardatoria di quelle di 40 milioni di Euro destinati proprio alla competitività delle imprese, mentre gli altri 27 milioni sono dedicati ai piccoli progetti di ricerca, proprio quelli che possono interessare sicuramente le start-up che comunque hanno bisogno di connettersi con il tessuto produttivo già esistente, trovare anche un finanziamento per finanziare una start-up, perché poi bisogna dividere tra chi ha l'idea, l'intuizione e chi poi fa impresa, perché avere delle grandi idee, avere delle idee innovative non sempre corrisponde a una persona con una capacità manageriale e imprenditoriale. Un bravissimo ingegnere può essere anche un pessimo imprenditore. Assolutamente, e quindi è evidente che il ruolo di mettere in connessione, di mettere in relazione chi ha le idee, con chi poi quelle idee le sa far camminare, le sa realizzare e le sa mettere sul mercato è importante. Hanno un ruolo fondamentale, come dicevo prima, sicuramente l'università in questa interconnessione, hanno sicuramente, abbiamo sicuramente noi un ruolo fondamentale nello scovare le idee, perché spesso diventa difficile per una start-up anche far vedere quel tipo di iniziativa, le future possibilità che hanno queste idee, quindi manifestazioni come visionaria sono importanti anche per questo. Aprono e accendono sicuramente un riflettore su quelle idee che poi hanno bisogno di questo sostegno per diventare impresa. È evidente che un ruolo devono avere anche il mondo creditizio, perché poi per mettere in pratica c'è bisogno di soldi, è inutile, i soldi costano altri soldi e quindi sicuramente il ruolo di regione può essere quello dell'abbattimento dei tassi di interesse in un momento in cui i soldi costano più del solito, più del passato e quindi anche su questo ci siamo concentrati mettendo a disposizione circa 10 milioni di euro per l'abbattimento dei tassi di interesse. Le cose da fare sono tante, però ritengo che anche visto i risultati comunque che danno l'abruzzo con un comparto produttivo che tiene botta in un momento sicuramente di crisi, essere tornati ai livelli di fatturato pre-Covid, cosa che non era affatto scontata, sicuramente è sintomo di un comparto produttivo importante, dinamico, ma anche di scelte giuste. Io prima sentivo anche il discorso delle infrastrutture, io su questa cosa devo dire che non sono d'accordo, si parla tanto di voli aere, c'è stata tutta una polemica legata all'aeroporto, cioè la verità vera è che l'aeroporto in quattro anni è passato da 500 mila passeggeri a 820 mila passeggeri, molti sono legati al turismo, voglio dire anche il turismo è un'impresa, assolutamente se i dati ci dicono che abbiamo un più 9,86% di presenze, un più 6,50% di arrivi rispetto al 2022 più 3% rispetto al pre-covid vuol dire che insomma le cose gli interventi messi in campo hanno dato dei risultati, sarà stata fortuna, bravura, non lo so, però sicuramente ci fanno pensare questo, rispetto alle infrastrutture devo dire che anche la ZES e quindi tutti gli investimenti legati infrastrutturali legati alla ZES non ultimo in corso di gara ma penso che a giorni dovrà uscire fuori parlavamo prima della Val di Sangro dell'Automotive Saletti ecco il potenziamento della piattaforma di Saletti è un'opera che magari poco visibile al grande pubblico ma è un'opera strategica per cui un'azienda sceglie oltre per le competenze come dicevo prima di rimanere se la logistica e di insediarsi si che oggi la logistica ha sicuramente un ruolo fondamentale risparmiare mezz'ora per caricare un furgone significano tanti soldi risparmiati per un'azienda riuscire a un'ultima battuta su un tema che aveva accennato proprio in ultima parte del suo intervento il direttore Marcantonio l'artigianato è anche artistico come si e questo è il tema anche della sfida che avete accolto come regione in vision art come si coniuga con l'innovazione cioè sembrano due cose completamente diverse poi invece vediamo stampanti 3D ma l'artigianato artistico sicuramente oggi ha bisogno di innovazione come un po' tutti i settori noi devo dire che siamo usciti con un bando tempo fa devo dire che gli artigiani ce ne danno atto che non si vedeva in Abruzzo da tanti anni con un bando di 13 milioni dedicato proprio alle aziende artigiane ma con priorità alle aziende dell'artigianato artistico l'artigianato artistico oggi sconta sicuramente un ricambio generazionale che purtroppo non c'è tema principale e sicuramente unire l'innovazione all'artigianato artistico che magari uno pensa che l'artigianato artistico debba mantenere vecchi schemi altrimenti non è più artistico sicuramente coniugato a un nuovo modo di vendere di questi prodotti per anni abbiamo negli ultimi anni sentito la polemica anche per quanto riguarda la vendita di fare la guerra al commercio online che è una follia oggi chi non prende coscienza che quello è il futuro e o ci attrezziamo ma è anche secondo me uno strumento formidabile se pensiamo a un artigiano che produce non so guardia grele rappresentosa pensare che di poter far vedere il proprio prodotto in tutto il mondo nel mondo nel mondo ci sono tante persone che possono permettersi di acquistare un pezzo di artigianato artistico che poi rappresenta un pezzo unico e non replicabile perché poi si possono fare anche in maniera industriale ma quella fatta dall'artigiano ha proprio la peculiarità di essere un pezzo unico e ripetibile e avere la possibilità di venderlo in tutto il mondo sicuramente è un'arma in più quindi sicuramente stampanti 3D lo studio delle nuove materie lo studio di realizzare vedevo un esempio di nuovi stampi in cera dove poter fondere l'oro addirittura vedevo le solette con i sensori potranno vederlo anche i visitatori di visionaria vero direttore insomma sarete in questo expo che durerà per i tre giorni sì proprio in quest'area riservata dedicata all'artigiano che un altro oltre a quello artistico c'è anche associato il tema dell'artigiano tradizionale ecco questa è un'altra cosa da rompere nella maniera più assoluta come schema esatto in questo caso il tradizionale è quello che si presta all'innovazione più pure a tutto tondo dalla progettazione perché la capacità di elaborazione dell'artigiano oltre che saper fare dell'artigiano ma anche la capacità ideativa può essere ottimizzata e velocizzata e si tratta sempre di rendere non solo efficaci ma anche molto più efficienti i processi per guadagnare il tempo per essere sempre più pronti sul mercato sempre con un prodotto che è quello richiesto dal cliente ma per dire ma anche nella fase di prototipazione per vedere se determinate soluzioni anche determinate geometrie legate ad esempio non rificeria possono essere realizzate quindi qui dentro il tradizionale avrà sempre ben poco di tradizionale in prospettiva deve avere sempre per poco o meglio vuol dire che non necessariamente tutta ma una parte del processo produttivo deve essere soggetta ad una trasformazione digitale anche forte noi ci fermiamo per l'ultima pausa poi riprendiamo col presidente Straver linea alla regia siamo tornati in studio per parlare di visionaria l'Adriatic Innovation Forum dal 22 al 24 di novembre quindi la prossima settimana al padiglione Becci della Camera di Commercio può essere visitato da tutti e al suo interno troveremo appunto diciamo non soltanto tante idee e tante discussioni ma diciamo anche una parte espositiva e momenti anche di grande interesse e di straordinarie attualità ecco con il presidente Straver vorrei parlare io banalmente perché anche io sono preoccupato per il mio lavoro da questo punto di vista ho detto che l'intelligenza artificiale è una cosa che ci affascina ma allo stesso tempo ci preoccupa ecco le imprese rispetto anche all'attuazione pratica dell'intelligenza artificiale della robotica insomma di queste nuove tecnologie che approccio hanno e soprattutto che approccio devono avere devono avere l'approccio che lo devono sposare in toto perché la storia ci ha insegnato che le razze che non si adeguano si stinguono si stinguono per cui poi bisogna sfatare che l'intelligenza artificiale ruba posti di lavoro no sicuramente agevolerà certi lavori manuali per esempio se vede oggi il montaggio il montaggio dei furgoni molti pezzi pesanti che una volta devono prendere a mano oggi viaggiano in maniera completamente automatizzata che si installano questo sicuramente ha tolto quel lavoro che una volta era quasi disumano a sollevare questi pezzi per ore e ore durante il giorno agevolato il mercato agevolato il mercato però ci sono tante altre persone che hanno lavorato per creare queste tecnologie per cui i posti di lavoro secondo me si moltiplicano non si estinguono e migliora la qualità della vita poi chi si dovesse che chi dovesse per principio rifiutare questo vuol dire che rischia fortemente di essere marginato per cui non ci deve assolutamente preoccupare ma ci dobbiamo attrezzare per essere competitivi con queste nuove tecnologie noi in effetti in questa occasione visionaria facciamo anche proprio per parlare ai giovani facciamo un premio storia alternanza scuola lavoro dove andiamo a premiare i migliori risultati e in questa occasione parleremo ai giovani spiegando loro che andando avanti il loro confronto non sarà più solo come forse fino a 50 anni fa con le persone della stessa provincia o della stessa regione ma i giovani andando avanti si dovranno confrontare con coetanei più o meno di tutto il mondo non solo dello stesso paese per cui devono imparare ad essere l'eccellenza di ogni cosa che fanno per cui non posso rinunciare a conoscere anche questa intelligenza artificiale e quant'altro è necessario oggi per lavorare per cui non bisogna avere paura del progresso bisogna accompagnarlo per quanto riguarda prima o poi si parlava per esempio di idee allora io forse sarò anche ripetitivo ma ho già detto altre volte e continuo a dire che spesso sono le idee che mangano perché i soldi si spregano le grandi idee trovano sempre chi lo finanzia non c'è bisogno neanche del pubblico bisogna avere le grandi idee beh io colgo questo messaggio di ottimismo e soprattutto lo voglio declinare con l'altra caratteristica ormai da tre anni di visionario di cui interpello e chiamo in causa nuovamente il direttore Marco Antonio che è l'hackathon perché qui le idee insomma devono risolvere problemi in pochi minuti una specie di game in qualche modo in tempo reale che si svolge all'interno di visionario ecco vuole spiegare ai nostri telespettatori di che si tratta intanto siamo buonissimi non diamo qualche minuto ma diamo tre giorni perché l'hackathon si partirà il 22 e sarà il momento di chiusura il 24 con la premiazione con la premiazione dei vincitori l'hackathon è una formula tradizionale dove a fronte di un problema posto da un'azienda in questo caso madrina del settore dell'ST c'è un insieme di gruppi di lavoro che assistiti nel nostro caso quest'anno sono stati assistiti anche in una fase di accompagnamento quindi con due percorsi formativi realizzati prima della tappa del 22 dicevo sì assistiti assistiti in loco genereranno delle idee ci siamo sforzati per fare in modo che queste idee in qualche modo siano anche riconducibili ad un modello di business che possa essere già messo in mano all'azienda madrina il tema è un tema pienamente in linea con visionaria perché si tratta di applicare quindi far scendere a terra il riduci riuso e ricicla in questo caso di prodotti hardware per quindi componilistica anche con metalli preziosi piuttosto che altissima percentuale di scarto di riuso di materiale plastico per tirar fuori un nuovo prodotto anche no un nuovo prodotto servizio applicabile preferibilmente prevalentemente prioritariamente all'interno di un settore di ST perché questa cosa è importante perché in questo ambito e proprio in questo contesto e soprattutto anche grazie all'azienda madrina azienda abruzzese la XRSRL abbiamo anche la declinazione degli altri due temi che sono presenti in tutti quanti gli altri componenti cioè quello dell'economia circolare ma soprattutto quello dell'internazionalizzazione perché sempre più l'elemento dell'economia circolare fa sì che sui mercati internazionali si possano raggiungere dei livelli competitivi di estremo interesse ecco perché in tutte quante le componenti l'aspetto internazionale a partire da SMAO a partire dal fatto che c'è sempre l'assistenza dell'altro servizio dell'azienda speciale della grande commercio di pescare che è quello dell'enterprise network il tema dell'internazionalizzazione soprattutto inteso come possibilità di confrontarsi con l'estero per approvvigionare qualsiasi step elemento della propria catena del valore o anche per confrontarsi con l'esterno è sempre presente non deve mai mancare chiudiamo dicendo che dobbiamo tenere ben presente che l'intelligenza artificiale è un nuovo strumento a disposizione già a disposizione a livelli piuttosto avanzati delle imprese e chi non lo inserisce nei propri cicli di lavorazione o nei fasi di produzione di idee partirà sicuramente svantaggiato ragione per cui c'è una parte interessante e consistente dei vision lab che è dedicato proprio all'intelligenza artificiale con varie declinazioni buon'ultima mi riallaccio a quello che diceva prima l'assessore anche nel far vedere come nel tema dell'internazionalizzazione soprattutto il discorso dell'e-commerce l'intelligenza artificiale possa facilitare la messa a disposizione e visione integrale di un prodotto che in maniera completa con tutti i sensi potrebbe trovare potrebbe realizzarsi solo in presenza del prodotto stesso ci mancano diciamo così le esperienze olfattive ma direttore andremo su quella strada ma su questo aspetto quanto è importante credo che l'approfondirete anche in un focus specifico il ruolo dei social per il business soprattutto sull'innovazione l'assessore diceva bisogna convincere l'artigiano a mettersi sulla piattaforma ma quanto è importante in generale qual è il valore aggiunto stimato di una presenza sui social soprattutto per le nuove idee per quelle che non sono uguali a quelle degli altri senza parlare tutto il tema dell'uso consapevole dei social o ancora di più di quanto anche in questo campo l'uso business dei social anche in questo campo l'intelligenza artificiale possa essere di supporto per svelare tutti quei fake tutte quelle false notizie piuttosto che prodotti o indicazioni che sono già presenti in rete allora l'uso dei social è il social è chiaramente un nuovo canale di comunicazione e anche di distribuzione quindi è impensabile che in un mondo così articolato ma non solo per un'azione di commercializzazione o di rivolgersi ad un consumatore che sia lontano da noi ma anche che sia prossimo se io mi accorgo che quel mio target utilizza i social per fare le pro per avere i trigger per avere gli stimoli o da quel canale per avere gli stimoli io non posso non essere presente lì ecco perché tra l'altro si inizierà anche ad esplorare tutto ciò che potrà essere ancora il futuro più spinto dei social o di realtà virtuale come può essere il metaverso questo elemento ancora un po' sconosciuto che pian piano sta sempre prendendo più del piede che personalmente evoca tutti quegli scenari di film di fantascienza che hanno caratterizzato la mia infanzia e che adesso si stanno trasformando in realtà non fate i conti sull'età na grafica grazie non le facciamo domande su questo assessore da Mario quanto è importante adesso chiudiamo col punto con il quale abbiamo aperto dando l'annuncio appunto di questa partnership di SMAO a visionare quanto è importante che l'Abruzzo sia stata una regione scelta per la prima volta nel roadshow di SMAO è un riconoscimento ma anche un punto di partenza ma sicuramente sì un riconoscimento non tanto all'Abruzzo un riconoscimento al sistema produttivo abruzzese è evidente che sicuramente fa capire che il sistema produttivo abruzzese è un sistema produttivo oggi all'avanguardia dico grazie all'università grazie ai centri di ricerca e quindi sicuramente un riconoscimento importante è un punto di partenza non è certo un punto d'arrivo ma una cosa su cui puntare è da mettere in evidenza insomma non credo ecco voi ovviamente siete alla fine del mandato e puntate diciamo senza voler entrare in politica ad una insomma una valutazione positiva da parte dei cittadini di come le attività produttive sono state sostenute in questa regione ma si poteva fare di più soprattutto negli anni della pandemia negli anni ora della crisi internazionale dopo di quella energetica ecco c'è stata qualche occasione mancata io faccio riferimento anche alla sua franchezza so che le riconoscono tutti nella vita non si fa mai abbastanza voglio dire si potrebbe sempre fare di più io ogni tanto ho fatto riflessioni anche su me stesso su questa sulle cose che lei diceva poi è evidente che per essere oggettivo ti devi far aiutare dai numeri cioè quindi cosa succedeva prima della pandemia e quali sono i numeri del post pandemia e devo dire che non per la bravura di regione Abruzzo dell'assessore o della struttura però voglio dire per quanto riguarda il comparto produttivo non solo tiene botta ma guadagna qualche punticino di PIL legato alla grande impresa sicuramente legato a un sistema di PMI tecnologicamente avanzato legato anche al turismo legato a tante cose però tutti gli indicatori ci dicono che siamo tornati ai livelli pre-pandemia e anche migliorato quindi è evidente che dopo la pandemia è stato uno tsunami che ci ha colto tutti di sorpresa a cui è stato difficile reagire noi abbiamo messo tutti gli strumenti possibili in campo dai ristori alle piccole imprese poi è evidente che una struttura come Regione che è abituata a elargire grosse somme ma in poche quantità trovarsi magari a gestire 50.000 mandati dico banalmente di ristori ci si è messo un po' di tempo in più è evidente che ho detto ci ha trovato impreparati voglio dire una ragioneria nella Regione è abituata magari a fare 100 mandati al giorno farne 10.000 in una settimana diventa difficile però dico i numeri ci dicono che comunque il tessuto produttivo abruzzese ha mantenuto a botta e ha guadagnato qualche punto si poteva fare di più sicuramente sì si poteva fare meglio sicuramente sì nella vita si può sempre fare meglio però ritengo che abbiamo fatto quanto il nostro potere e dico insomma di questa cosa ce ne hanno dato le associazioni di categoria che si è intervenuti nel meglio che si poteva ecco su questo io non posso non chiudere col Presidente con il quale abbiamo aperto chiedendogli adesso abbiamo parlato a lungo divisionare parliamo del futuro perché il futuro c'è bisogno anche per tutte le imprese del territorio di Chieti e di Pescara così come di tutta la regione tra cinque mesi ci saranno le elezioni ci sarà una classe dirigente che verrà votata dai cittadini di questa regione per governarla per i prossimi cinque anni cosa chiedono le vostre imprese alla politica io credo che il mondo produttivo alla politica chieda che faccia il proprio dovere il proprio dovere è quello di amministrare in maniera corretta quello di semplificare ma non perché quando parlo di semplificazione significa che saltare dei passaggi esatto ma di semplificare di semplificare i percorsi autorizzativi di competenza della regione è quella di impegnarsi come dicevo prima per quello che può perché la regione ha i suoi limiti non è che quando parlo che manca l'alta velocità non è compito della regione per cui non vorrei essere frainteso perché la regione ha i suoi limiti per quello di competenza che faccia funzionare le cose che per quello che può fare di migliorare la viabilità nelle sue competenze di fare quelle cose lì io non chiedo non credo che le imprese chiedano assistenzialismo assolutamente assolutamente e il tessuto imprenditoriale abruzzese credo che per il 90% è sano è sano e dico una cattiveria grazie alla pandemia probabilmente abbiamo fatto tutto un salto di qualità non indifferente e questo è un elogio agli abruzzesi è un elogio perché grazie alla pandemia tutti ma dico tutti indistintamente abbiamo accelerato un processo un processo tecnologico abbiamo ingentivato abbiamo ingentivato la digitalizzazione siamo è vero che siamo stati costretti ma l'abbiamo fatto per cui io credo che l'Abruzzo può contare nei prossimi anni se troviamo quella collaborazione necessaria che serve tra sistema politico mondo imprenditoriale parte collaboratore perché la civiltà di un paese dipende dall'uomo della strada al presidente della Repubblica non possiamo mai dare tutta la colpa a qualcuno sarebbe sbagliato noi primi i protagonisti della società detto questo io credo che e voglio ricordare alla parte pubblica che una regione un territorio in senso lato uno Stato per essere sostenibile ha bisogno di tutte le attività produttive partire dall'industria l'agricoltura il commercio l'artigianato il turismo se noi riusciamo a mettere a far funzionare tutte queste attività probabilmente avremo un territorio sano perché sono attività che si sostengono l'uno con l'altro così riusciamo ad avere un benessere diffuso diffuso non per categorie per nicchie ma diffuso è quello che mi auguro e sono convinto che è quello che la nostra regione può fare perché voglio precisare che mentre con il sistema industriale abbiamo una regione sufficientemente avanzata come industria abbiamo un'agricoltura che ha fatto passi da giganti la qualità dei lini la qualità dell'olio l'ha fatto passi da giganti e questo è sicuramente oggi un fiore all'occhiello per il nostro territorio dobbiamo incrementare la parte turistica e dobbiamo incrementarla non ci sono grosse catene alberghiere speriamo che ci sono abruzzesi che abbiano voglia di investire e dobbiamo creare una catena alberghiera di recettività perché oggi per esempio con la pista ciclabile della costa di Trabocca abbiamo un fiore all'occhiello che probabilmente il mondo ci invidia per chi l'ha visto però se arrivano tutto il turismo che ci aspettiamo dobbiamo essere pronti avere anche i servizi e allora dobbiamo crescere anche in questo settore e credo che gli abruzzesi possono avere un futuro non dico tranquillo perché la tranquillità non esiste ma un futuro di benessere grazie presidente se ne parlerà di questo e di altro dal 22 al 24 di novembre al padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara nella terza edizione di Visionari Adriatic Innovation Forum grazie anche al vice direttore dell'agenzia di sviluppo della Camera di Commercio Chiedi Pescara Giovanni Marcantonio l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario grazie arrivederci arrivederci tutti a Visionaria a Grazie a tutti